Fiamme altissime questa mattina poco prima delle 8 da un'isola ecologica in via Roma a Pescara hanno creato ingenti danni ai locali e agli uffici della Banca Intesa San Paolo. A temi di panico nella zona, in un orario particolarmente trafficato e per la presenza di vicino della scuola Pascoli, diversi genitori infatti hanno riportato i figli a casa per paura e la scuola ha subito attivato le disposizioni di sicurezza consegnando ai bambini le mascherine. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia con ben tre dirigenti, Barrasso per le volanti, Difrischia per la scuola mobile e soprattutto Cosentino per la Digos. Quest'ultimo voluto direttamente dal questore per non lasciare nulla all'intentato. La natura quasi certamente dolosa dell'incendio infatti invita a non escludere alcuna pista, nemmeno quella anarchica, visti i danni ad un luogo sensibile come la banca e le proteste in corso in Italia per la vicenda cospito. In mattinata agenti della scuola mobile si sono recati anche presso la cittadella della sicurezza in via di circuito per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sul corso Vittorio Emanuele. Non si sono fortunatamente registrati feriti, gli abitanti della zona sono stati tutti invitati a lasciare i propri appartamenti per ragioni di sicurezza, ma già intorno alle 11 sono potuti tutti rientrare sempre per la sicurezza, chiuso alla traffico fino alle 11 circa un tratto di corso Vittorio Emanuele.